Ciao ragazzi, sono Eppi! Bentornati su Mega Wow! Come state? Oggi ho deciso di prepararmi la mia pizza preferita! Sono bravissimo in cucina! Un vero chef! Altro che la pizza di cracco! Ho anche il cappello! Voi guardatevi il video di Cinzia mentre io impasto! Regia, fai partire il video! Ehi, ciao a tutti! Io sono Cinzia! Io sono Aurora! Benvenuti su Mega Wow! Ciao Eppi! Ciao Eppi! Gordo qui! Non l'ha vista il vaccino? Daglielo di nuovo! Guarda, guarda! Ma che ci fanno tutti questi faconcini? Oh, mamma mia! Oh, mamma! Ma cosa abbiamo trovato? Ma cosa abbiamo trovato? Siediti! Vieni qua che ti spiego cosa abbiamo fatto! Ferma! Vieni qua! Abbiamo qui questa casa con il giardino! Dove sono i giochi? Qui? Qua dentro! E ci sono tantissime cose da trovare! Io li trovo! Va bene! Io ti aiuto! Ci sono tanti giochi da trovare! Sì! Ma! Ma! Ci sono due giochi speciali da trovare! I più belli di tutti! Ci saranno anche degli indizi! E allora, siamo pronti? Sì! Fatti cinque! Pazza e pazza! Espira! Ok! Iniziamo! Togli le scarpe! Una! Tolta! Ah! Un piede di Aurora! Sì! Andiamo a cercare le cose! Vai! Forza! Cerchiamo! Oh mio Dio! Oh, mamma mia! Ah! Cos'è? Occhiali! Ma che occhiali sono queste? Non ti ricordano niente? Uno di cagnolino! Continuiamo a cercare! Abbiamo trovato il primo indizio! Vai! Ma io lo trovo per prima! Io non ho trovato niente! Che cos'è? Una pallina rossa! E tu che hai trovato? Cos'è? Una cindola del cianelino! Che carino! Altro indizio! Cerchiamo! Che cosa sarà? Andiamo avanti a cercare! Via! Io ho cercato... E questo? Può essere un indizio? No, è questo! Questo? Questo no, quindi? No, questo no! Via! Via! Altro indizio trovato da Aurora! Mettimili! Oh, io mi metto questi allora! Non siamo fashion! Oh, ma è tutto rosa! Bellissimo! Altro indizio! Forza! Via! Cosa hai trovato? Ma è una pallina blu! Ma è una pallina da tennis! No! Ma non è nulla! Non c'è niente! No! Aspetta, ho trovato qualcosa! Un bracciale! Non lo posso fare! Ma non è un bracciale! E che cosa? Che può essere una collana? Sì! Vediamo! Guardate il cagnolino! No! È un choker! Si chiamano choker! Le nuove collane! Trend! Di moda! Auri! Wow! Guardate Aurora! Sono un cagnolino! È un cagnolino con un cuoricino! Vai! Andiamo avanti! Vai! Questo! Non è sempre lo stesso! No! Non ce l'ho dopo niente! Guardate! Guardate! Guardate le lingue! Guardate! La sinopita! Apriamola dopo! Questa è un'altra collana come quella di poco fa! Sono uguali! Quindi significa che sono due! Questa è la prima palla trovata e dentro sembra ci sia un animale gigante! Questo è un pezzo! Andiamo a cercare l'altro! Wow! Un cagnolino! Non è lui! Un fameo! Non è lui! Secondo me devi andare là dentro Aurora! Sei pronta? Devi andare all'avventura là dentro in quella casetta! Vai! Entra! Vai dentro Auri! Non ci entro! Non ci entri! C'è qualcosa? Trovi qualcosa? C'è niente lì dentro! Vai Aurora! Cerca! Portatela! Un'altra! Hai trovato? Wow! Ce n'è un'altra! È un cagnolino! Bellissima! Guarda! Wow! Da dentro! Yeah! Ce n'è un altro! Questo è l'altro collarino trovato! Brava Aurora! Missione compiuta! Andiamo ad aprire queste LOL! Best! Buongiorno! Sì! Ciao! Sono Happy! Volevo sapere se era pronta la mia pizza margherita con le wuster e le patatine! Una! Pizza con wuster e le patatine! È pronta? Pronto? Sì! Ma l'ho già ordinata! È pronta? Ma che già ordinata caro? È presente? Sono Happy! L'unicorno! Non ho capito! Sono Happy! L'unicorno! Sono su YouTube! Mi segui? No no! Via! Come? Ma l'hai già chiamato prima? Sì sì! Sono Happy! L'unicorno di YouTube! Mi seguite? No no caro! Sbagliate il numero! Tu non mi hai chiamato qua! Come no? Sì che ho chiamato! Ho chiamato! 25 euro la pizza con i wuster e le patatine! Quante? 25 euro la pizza con i wuster e le patatine! No no caro! No no no! Ho sbagliato il numero caro! Ma! E io ho guardato nelle pagine gialle! Il numero è questo! Lui c'è questa martina che ero caro! Americana! Ti chiamo Americana! Americana? Ah? Americana? Sì! Tu non mi hai chiamato qua! Sì sì sicuro? Sì sì sicuro sicuro! Ah! Ok! Grazie! Ciao ciao! Ciao! Siamo pronti ad aprire! Abbiamo gli occhiali investigativi! Questi servono anche per metterli qui! Ecco qua! Abbiamo la nostra borsetta! Olè! Vediamo! Intanto è un salvadanaio! Vedete? Salva danaio! È uno zainetto! Guarda si mette qui! Ma sei in quella dietro? Sì si mette dietro! Uno zainetto! Questo è il pezzo! Io sento un rumore dentro! E andiamo ad aprire perché è qui sotto come i salvadanaio! Oh mio Dio! Busciamo tutto! Altre cose! Ancora buste! Ancora buste! Ancora buste! Ma ce ne sono! Buste! C'è qualcos'altro! Che cos'è? Non lo so! È uno scrigno magico! Non è finita eh! Un altro! Un altro! Sono finite guarda! Ok adesso apriamo! Apriamo! Io lo so con lo scherzo! Che cos'è? Ma che! Per cane il cane! E questo è per cane! Per calma Alta! È un osso! Sì vero è per cane! È un osso! Sì! È lo scherzo! Si apre! C'è un segreto dentro! È! Qui servono gli occhiali! Mettiti gli occhiali! Che cosa vedi? Me li metto anch'io! Io non vedo niente! Ma come non vedi niente? Qui c'è il fuoco più un cagnolino! Guardate vi faccio vedere anche a voi! Mmm guardate! E c'è scritto qui! What do you call? A dog in the sun! Hot dog! E questo è un altro! Però non è un messaggio segreto! Questo si sgancia e basta! Pronta? Qui c'è un fiocchetto! Vabbè dai! Vabbè dai cos'è? Guardate questo! E anche il fiocchetto! Altro! Una palettina! Cosa hai trovato? No! Guardate! È un'altra palettina! Eh però! Però per gatto! Adesso ci sono queste! Apriamo! Quale vuoi? Questo! Rosa! È una sappietta! Ta-da! Andiamo a prendere la palettina! Sì! C'è qualcosa dentro! Guardate! Wow! Guardiamo quest'altra! Scaviamo! Scaviamo! No! È un piccolo dalmatan! Guardate! Altro! Ancora sappietta! Eccola qui che vuole uscire! Eccola! Guardiamo! No! Ma che cosa? È un bebe! E adesso andiamo ad aprire l'altra! Ta-da! È un coniglietto! Pronta? Vai! Vai! Uno! Otto! No vabbè! Ciao! No vabbè! Quanti siamo? Ho perso il conto! Wow! Adorato! Un altro rosa! E un altro rosa! Sì! Ah! Gli metti gli occhiali a loro e gli attacchi dietro con la fascetta! E anche un'altra cosa! Il nostro pezzo gigante è diventato molto fashion con la nina e occhiali! Io ho trovato la palettina gialla e aurora rosso con il bigliettino segreto! Allora c'è questo, 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 questo e questo! Ok abbiamo capito tutto no? C'è scritto What's up Bunny's favorite dance? E la risposta è una calza e una ballerina che sarebbe sock hop! Vedete? Sì che carino! Sì! Guarda! Occhiali! D'occhiali! Ta-na-na-na-na! C'è di nuovo il cuoricino che fa... E c'è di nuovo anche il ferro di cavallo! Era talmente piccola che non si vedeva ma c'è una collanina minuscola e la paletta! Andiamo ad aprire! Oh! Caduto! Questi! Ta-dam! È uscita tutta! Oh! Ah! È cicciotto! Tra poverino! È cicciotto poi! Vediamo se esce! È molto più bello così! Bellissimo! È troppo carino! E qui dentro c'è anche la cucetta! Abbiamo trovato un'altra bustina! L'apriamo dopo all'ultimo! Prima apriamo questo! Andiamo a scavare! Uh! Carinissimo! Lo vuoi aprire tu? Sì! Che cos'è? Guardate! Lui ha la pettorina e lui ha un piccolo collarino! Che carini! Andiamo a vedere pure gli occhiali! Gli occhialini giganti! Occhiali anche per lui! Che fashion! Ed ecco qui! Lei col fiocchetto! E lei con la collanina! Ebbene sì! Il video è finito! Ma dov'è Aurora? Dov'è Aurora? Aurora? Dove sei? Non ti vedo! È nascosta! Abbiamo scoperto queste bellissime pezzi giganti! Non ci sono più! Non c'è più Aurora! Non è vero! Grazie Happy! È stato bellissimo! Spero il video ti sia piaciuto anche a te! Un bacione enorme! Ciao Happy! Grazie mille! Sono bellissime! Iscrivetevi al canale di MegaWow! E continuate a seguirmi! Ciao! Ciao! Anche lei saluta! Guardate! Tadà! Ho visto che pizza? È una meraviglia! Mi è venuta ancora meglio delle altre volte! E voi la sapete fare la pizza? Scrivetemi nei commenti qual è la vostra preferita! Ci vediamo domani! Mettete like e iscrivetevi al canale! Ciao!